è arrivato il pacco dei pannolini ovviamente se ne occupa marco quindi parla lui perché lui che fa gli ordini su my family shop perché l'ha scovato lui come sito dai papà che hai preso va bene a parte questo che è un regalo da parte loro ed è una tendina parasole per i bambini sono curiosa due tendine parasole vabbè dai simpatiche le mettiamo nei vetri dietro queste vanno bene per i vetri dietro che noi abbiamo la macchina lunga poi abbiamo un po di salviettine di vario tipo ah sì tu sei quello del mix allora perché ognuno di noi ha la profumazione che gli piace di più a me piacciono tantissimo queste milk e honey che sono proprio delicatissime anche queste qui che sono proprio quelle con la vitamina e sono ottime hai preso queste bravissimo sono quelle che si possono mettere anche nel water perché sono biodegradabili queste qui le tengo sempre in borsa perché per in realtà non per le piccole ma per le grandi è una cosa utile importante da avere dietro quando siamo in giro perché si possono buttare nel water invece ho visto ecco bellissimo questo deve essere il packaging nuovo delle salviette guardate che bello mettono proprio in evidenza il fatto che è assolutamente non vanno buttati nel vc è una cosa che non ho mai visto fare tra l'altro bravi bravi questi appi sono sempre più contenta di averli di averli trovati poi questi sono i pannolini della bea un po di servettine rinfrescanti a queste qui sono quelle che ti avevo detto da borsetta bravo ottimo questo qui è un must no è una salvezza in macchina non potevi non prenderli questi qui sono i bavagliolini quelli usa e getta che noi usiamo nei viaggi in macchina perché le nostre figlie soffrono l'auto ok poi cosa hai preso cosa sono i pants i pens sono una cosa interessante perché li ho presi perché sono misura 3 però è una misura 3 che come come chili va dai 6 agli 11 chili se guardi invece la misura i pannolini ormai la misura 3 va dai 5 agli 6 chili 9 9 chili sto leggendo al contrario e dai 5 ai 9 chili e quindi è interessante cosa vuoi fare perché per la bea questi sono grandi sono grandi però in realtà magari non è detto che possono essere utilizzati anche da da sarano in questo momento le presi per stare ok proviamo le mutandine mamma io vorrei spannolinarla per un po presto poi a poi sotto avevi preso a vabbè questi su di soli teli che si soliti che sempre usiamo in grande quantità sempre soprattutto nei viaggi in auto in auto sono sono pannolini normali taglia 3 questa volta di 59 kg questi sono i classici questi per la bea sì questo tanto ormai taglia 2 ne hai preso solo uno sì perché ormai è grande cioè ormai è diventata lunga lunghissima ma è bene bravo papà grazie Tokare Grazie Grazie La